Oggi un video retro Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te Come state ragazzi? Lo so, lo so, è una settimana che non ci si vede perché ombrettina vostra è stata male La mia testa ha dato forfè, troppi pensieri, troppa tensione, non lo so Ho avuto quattro giorni di mal di testa che non se n'è andato con nessun tipo di medicinale con nessun tipo di meditazione, con nessun tipo di massaggio, niente Fermo, fisso, fino a quando ha deciso lui E purtroppo ragazzi io sopporto qualunque dolore fisico se ho una distorsione, se ho un mal di pancia ma l'unico dolore che mi blocca è il mal di testa mi paralizza se a me la testa non funziona, tutto il resto va a farsi benedire però, però, sono tornata vi chiedo scusa per essere mancata chiedo scusa agli iscritti di tutti i miei corsi perché li ho tutti quanti lasciati in asso con un semplice messaggio dove dicevo che stavo poco anzi dove Gabriele gli informava che stavo poco bene grazie per i tanti auguri, per i tanti pensieri positivi mi sono arrivati ora sto bene, grazie al cielo e di conseguenza eccomi subito qui da voi ma se avete avuto tanta mancanza potevate trovarmi in tutte le librerie che aggancio ragazzi in tutte le librerie con i miei due libri il ricettario dell'arte il libro dove custodisco tutte le ricette dove vi ho regalato tutte le mie ricette di anni e anni e anni di lavoro qui potrete fare con questo tutto ciò che vi serve per avere un laboratorio d'arte completo e con tutti i materiali professionali dai colori alle mestiche alle vernici alle paste modellabili tutte le ricette le trovate qui e poi il secondo genito che mi piace tanto perché il grande libro del colore raccoglie al suo interno tutto quello che si deve sapere sul colore dal significato al come creare le varie tinte al significato della nostra predilezione per un colore o per un altro della nostra avversione per quel colore nonché anche la storia del colore tante curiosità miscelate tante cose pratiche e utili per l'utilizzo consapevole del colore vi aspetto in tutte le librerie e adesso veniamo a noi non ho avuto essendo guarita da poco poco non ho avuto molto tempo di mettermi sul piano da lavoro a creare qualcosa per voi oggi pomeriggio lo farò ho già in mente un paio di video di quelli fenomenali come diceva Dan Peterson questa è una citazione per i più anzianotti come me e sull'onda degli anzianotti oggi vi faccio vedere ho deciso di condividere con voi alcune chicche che posseggo vi faccio vedere quello che è di antico barra vintage o di creativo all'interno del mio studio dei piccoli piccoli cimeli alcuni di famiglia altri che mi sono stati regalati che tengo con grande cura ma che nel frattempo utilizzo alcuni me li avete proprio visti usare quindi adesso basta cianciare e guardate cosa vi faccio vedere la prima cosa che ho sempre a portata di mano nel mio studio è questo qua questo me l'avete visto usare centinaia di volte sul canale si apre tirando questo chiodino e voilà il pannetto è tutto sporco di inchiostro del calamaio di mio nonno e di mio padre infatti questo era il compasso di mio nonno un compasso salmoiraghi la dicitura è molto più lunga di salmoiraghi compassi di precisione salmoiraghi questo è un compasso che dovrebbe essere datato intorno agli anni 40-50 uno degli ultimi compassi di mio nonno mio nonno era un ingegnere tra l'altro forse con questo compasso è stato ho un po' paura a dirlo è stato progettato uno dei primi ponti sullo stretto perché mio nonno è stato uno dei primi progettisti del ponte sullo stretto lui collaborò con gli architetti e gli ingegneri del ponte di Brooklyn e infatti c'è un documentario sull'istituto luce dove c'è un mio nonno molto anziano che andò a una riunione per la costruzione del ponte quindi questo compasso è quanto mai attuale è un po' mi fa storcere il naso certo mio nonno oggi come oggi non so se sarebbe molto fiero di me io potrei essere valutata come la pecora nera della famiglia la frangia che ha piegato al ludico la creatività però appunto mio nonno era un tipo invece molto sobrio molto austero era una personalità anche importante della nostra bella Italia e fece tante cose in Sicilia e mi piace pensare che le sue mani si sono posate io non l'ho mai conosciuto mio nonno è morto nel 58 57 mi piace pensare che le sue mani si siano poggiate su questo compasso questo tra l'altro fu il compasso che regalò a mio padre per la scuola era uno dei suoi compassi quando mio padre gli andò a chiedere gli regalò questo che è ancora perfettamente funzionante che io utilizzo ogni qual volta mi serve un compasso tre generazioni di fusco attorno ad un compasso mi piace pensarlo così penso che lo passerò a mio figlio quando sarà grande e imbraccerà la sua professione creativa sono quasi convinta io penso che ritornerà alla sobrietà del nonno vabbè di pazza ne basta una in famiglia adesso e quindi questo è il primo cimelio vintage barra antico che io porto sempre con me per il parco indicio passo dalla parte materna e vi faccio vedere un'altra cosa che io utilizzo spesso non con la stessa frequenza con cui utilizzo il compasso ma ogni volta che devo preparare dei biglietti o che devo aprire delle buste o che devo piegare bene della carta o che devo timbrare con della ceralacca prendo lui questo apparteneva invece alla mia nonna materna a nonna giuseppina e vi faccio vedere cos'è voilà è un set da scrivania per appunto missive è un set per missive perché ha la pribusta, il piegacarta, la penna e il timbro per la ceralacca poi qui si incollava si attaccava lo stemma che volevate imprimere e si imprimeva la ceralacca io ho i miei timbrini ma fino a che non ho avuto i miei timbrini ho stampato con questo ora c'ho il mio timbrino di arte per te perché io sì quando chiudo le lettere metto la ceralacca e questa è una stecca d'osso originale questa apre le buste in maniera meravigliosa senza rovinarle quindi è ed è assolutamente liberty lo vedete dal decoro è in argento ovviamente le cose belle di una volta e guardate che bel decoro che ha sui manici è veramente una chicca questo mia nonna lo utilizzava tant'è che l'ho rimesso io in cofanetto era sulla sua scrivania aperta c'era anche il calamaio che ho qui nel cassetto che non faceva parte del set ma che era un calamaio lo volete vedere? un attimo ve lo faccio vedere ed eccolo qua era nell'altro cassetto il calamaio guardate in cristallo bellissimo e qua dentro conservo le punte delle penne guardate che bello qui dentro ci sono tutte le punte da pennino bene io naturalmente oggi come oggi non prendo più l'inchiostro dal calamaio che è sbeccato vedete perché è stato molto usato ma ho la boccetta degli inchiostri quando intingo la penna e il calamaio lo conservo appunto perché mi ricorda i miei antenati e quindi lo conserverò sempre lo tengo come portapunte approfitto di questo momento pennino e varie per ringraziare una di voi Laura che recentemente mi ha inviato un regalo meraviglioso mi ha lasciata veramente a bocca aperta e molto ha a che fare con quest'ultimo set che vi ho fatto vedere ce l'ho qui sulla scrivania guardate che mi ha mandato pazzesco una Wordsworth Black ed è un set per scrivere con gli inchiostri ancora questo non l'ho usato perché ho il mio ancora aperto ma appena finisce attacco anche quest'inchiostro e questa penna bellissima io amo le stilografiche amo soprattutto disegnare e poi mi ha inviato Laura grazie 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 guardate le carte fiorentine con un set da busta lettere biglietto e poi qua sotto il cassettino con la carta da lettere e le buste qua c'è il suo bigliettino che conserverò per sempre con infinito affetto ma la bellezza alla fine rimane il portagioie voglio dire se non lo si usa più dopo che si è finita la carta rimane un portagioie stupendo cose che fanno gli artigiani fiorentini queste qui e infatti bellissima grazie a Lauretta ho voluto farlo vedere anche agli altri perché sono troppo belli per non condividerli grazie io sono una che non non ama ricevere i regali infatti io non lo sapevo che lei me l'avrebbe spedito si è messa d'accordo con Gabriele e ho avuto questa sorpresa incredibile comunque questo è un tocco di modernità però di stampo classico andiamo avanti con i miei i miei i miei tools vintage un'altra cosa bellissima che ho sono queste allora queste non sono le squadrette queste si chiamano specialmente qua in Sicilia i righelli i righelli sono appunto le righe centimetrate in legno ne ho due sono abbastanza vetuste e sono bellissime queste non le uso mai perché non voglio rovinare il filo della riga sporcando le uso semplicemente come momento di bellezza per il mio studio le metto lì in bella mostra poggiate e arredano e mi piacciono veramente tanto guardate sono in legno bellissime una volta poi erano anche ecologici facevano queste cose stupende senza arrecare nessun danno senza portare nessun nessun materiale dannoso all'ambiente stupende le mie righelle le adoro ogni volta che le vedo mi teletrasporto in una scuola anni 50 non so perché vengo subito proiettata guardate la bellezza del font della numerazione ed è subito libro cuore io adoro queste cose anche annusare il tempo poi questo era del nonno di Gabriele pensate un po' il nonno di Gabriele è morto che il papà di Gabriele aveva 17 anni ebbene arriva dal suo studio il temperamatite guardate che bello adesso io non so neanche che marca sia questo temperamatite anche questo lo tengo poggiato all'interno di una ciotolina più come su pellettile che non per temperarci le matite però è anche un ricordo che lega la nostra famiglia a quelle che sono state le famiglie della nostra famiglia del passato quindi insomma seppur io non ho conosciuto e neanche Gabriele ha conosciuto il suo nonno e neanche ho conosciuto il nonno del compasso il papà di mio papà però sono sempre mi fa sempre piacere rimanere con loro connessa con loro attraverso l'utilizzo o l'apprezzamento degli oggetti che ci hanno lasciato anche involontariamente perché non penso che il nonno di Gabriele avrebbe mai pensato che il suo temperamatite sarebbe finito in casa del suo pronipote Enzo quindi eccolo qua poi avviciniamoci verso le cose più vi lascio quello di lusso alla fine per adesso vi faccio vedere gli lusso quello un po' più costoso per il mercato comune che a me non cioè mi piace ma ci sono cose che mi piacciono di più questo viene da casa di mio nonno ma penso che sia più una raccolta di mia zia questo è una scatolina antica come potete vedere ed è una scatolina all'interno ho trovato tutti i sonaglini anni 50 sentite il riverbero e allora sono tutti i sonaglini anni 50 60 sentite che bello scampanellio non li fanno più così belli ora sono così guardate vi faccio sentire la differenza tra quelli nuovi e quelli antichi nuovo una schifezza antico la melodia del Natale immaginate tutti questi che quando si fermano continuano continuano a suonare guardate qua c'è un intruso nuovo tu sei nuovo bellissimi e allora questi anche io continuo ad usarli quando faccio qualche lavoro natalizio perché io penso che gli oggetti comunque per quanto se hanno un utilizzo come appunto i campanellini possano anche continuare il loro viaggio nel mondo quando me ne rimarranno due tre li conserverò per me ma intanto gli altri li sto veicolando al mondo queste me le ha regalate Gabriele adesso penso che arrivino anche da qualche ufficio di suo padre forse dall'ufficio di suo padre non ne ho idea vi faccio vedere è un set fatto da due quattro sei otto dieci dodici gomme queste chi se le ricorda queste sono le gomme per la macchina da scrivere gomme della Pirelli dalla gomma da cancellare al pneumatico per camminare è un attimo guardate che rarità non so datarvele devo dire non sono una cosa che mi appassiona né visivamente non è per niente estetic però segna sicuramente un'epoca come la Salmoiraghi oggi noi la conosciamo per gli occhiali una volta faceva compassi la Pirelli oggi la conosciamo per i pneumatici e altro una volta faceva le gomme da cancellare cioè capire come nel dopoguerra le aziende si siano rilanciate messe nel mercato con cose anche basiche prima di diventare colossi di altro ed è bellissimo e qui ho proprio la bustina e c'è lo stampino sono state ferme così tanto che l'inchiosto della gomma è andato sulla carta poi quando le abbiamo prese noi da quando le abbiamo noi le muoviamo un po' di più vado con due cose bellissime queste non sono cose che appartenevano alla mia famiglia ma sono due regali che mi ha fatto Gabriele e allora questi i colorini del Giotto guardate che carini con l'antica effigie proprio di Giotto che mi ha fatto la storia qua li chiama ancora pastelli con la dicitura sbagliata perché sono magite colorate e guardate al loro interno contiene un segnalibro premio recita la scatola e al suo interno c'è ancora il segnalibro premio io queste me le ricordo queste sono fine anni 70 cioè inizi anni 70 fine anni 60 credo questo è il segnalibro e questo è questo è il foglietto illustrativo guardate è come un oggettino così piccolo venisse corredato da tutto e guardate che genio allora né così con la punta arrotondata né così con la punta troppo affilata ma così con la punta ben temperata ma morbida senza che graffi il foglio guardate come è cambiata proprio la cura per il cliente naturalmente le matite giotto erano fatte da fila all'epoca di firenze infatti qui c'è la marca fila e le matite ci sono tutte ve le faccio vedere voilà le tipiche matitine giotto corpo in legno che belle mai usate queste le le rimiro nel loro bellissimo scatolino queste sono proprio matite inizi anni 70 fine anni 60 stupende come tengo qui esposte in bella mostra appena me le ha regalate io ho fatto infatti c'è la polvere sopra ho fatto tre balze di gioia a me se fate un regalo cioè no voi se mio marito mi fa un regalo di questi mi rende felice più che un gioiello perché per me questi sono gioielli guardate qui stabilo della swan allora le matite stabilo anni 60 50 60 nuove mai usate delle matite che non sono state apprezzate nel loro tempo che adesso io adoro allora io queste le guardo in continuazione ci passo la mano ogni tanto faccio un disegnino perché io adoro sapete le matite stabilo e lui mi ha trovato queste che sono meravigliose adesso voi direte ombretta ma cosa te ne fai insomma ragazzi sono la storia del mio mestiere queste cose queste insieme alla mia collezione anzi se volete vederla lasciatemela scritta qui giù tra i commenti io ho una bellissima piccola ma bella collezione di libri antichi tutti dedicati all'arte forse ve l'ho fatta vedere qui sul canale agli inizi ma se molte persone sono nuove da allora dice la maggior parte quindi se volete rivederlo lasciatemelo scritto tra i commenti e sarò ben felice di mostrarvi i miei libri d'arte antichi ma antichi io ho delle prime edizioni cose bellissime alcuni in lingua ne ho uno totalmente in francese stupendo insomma io vedo in questo la possibilità dell'essere divenuta quella che sono se non ci fossero state persone a creare queste cose io oggi non sarei qui questa è la storia del mio lavoro e quindi la adoro e poi vi faccio vedere una cosa con questa ci ho disegnato tantissimo ci disegnavo tantissimo quando andavo a scuola e devo dire che mio padre si arrabbiava tantissimo si arrabbiava tantissimo si arrabbiava tantissimo perché le ricariche avevano un certo costo e io le usavo per disegnare sui diari bene questa era la penna che mio padre teneva qui vi faccio vedere dove io ho lasciato qua il segno allora mio padre aveva un set qui su di pelle qui sulla scrivania dello studio perché questo prima era lo studio di mio padre che era di una marca antica anticamente questa marca era buona era la Nazareno Gabrielli potrei farvi vedere anche questo c'è tutto il set il portacarte guardo lì perché l'ho appoggiato lì per adesso che ho il piano da lavoro completamente ricoperto e questo il bicchiere tieni cose il portapenne lo tengo sempre qua e lo tengo con delle cose di mio padre il suo cacciavite questo che è stato sempre qua ma che non ha mai usato nessuno una brugola e poi c'era una cosa che lui usava quotidianamente poi qua dentro ci sono due pezzi da dieci lire insomma poi negli anni è stato anche svuotato ripristinato però ci sono delle cose che non sono mai andate via e mai andata via è questo il suo mini cacciavite con cui regolava la vite degli occhiali perché una sticella dei suoi occhiali certe volte si allentava e questo era il suo cacciavite tra queste cose c'erano anche altre cose all'epoca lui lasciava sempre la penna che poi quando usciva metteva in tasca e portava con sé questi anni 60 70 non saprei definire esattamente l'epoca non me lo ricordo mi ricordo che negli anni 80 comunque era qui ed è sempre rimasta qui incuranti della marca del valore insomma non era quello per me era la penna multicolor con cui coloravo il diario quando facevo i compiti perché i compiti li facevo in questa scrivania e voilà ed è questa ora voi conoscete il prototipo Bic quella con i quattro colori ma forse non fu la Bic a inventarla questa è una Montblanc ed è una Montblanc a tre colori allora uno due tre adesso Enzo ha finito le file ultimamente che devo acquistare quindi al momento non è funzionante nel senso che come vedete gli scatti funzionano tutti e gira assolutamente bene la penna i colori sono rosso blu e nero e ora sono rosso blu e nero ma si possono comprare del colore che preferite ed è una penna bellissima il caso poi voi ci credete al destino il caso poi ha voluto che Gabriele si accorgesse di una cosa pazzesca che io non avevo mai visto è una Montblanc Volkswagen made in Germany cioè è stata una Montblanc fatta per un qualcosa relativo alla Volkswagen perché mio padre non aveva nulla a che vedere con la Volkswagen quindi è stata una cosa tipo boh non ho idea che gli hanno regalato non lo so però mio marito che è patito di Volkswagen voi capite bene che appena l'ha vista ci ha appeso l'occhio infatti io poi l'ho regalata a lui a me piace avere una penna buona non per la cosa in sé non lo so perché perché ognuno di noi a casa ha avuto la sua penna buona mamma aveva la sua penna buona papà aveva le sue penne buone mia sorella anche quando ci siamo sposati quando ci siamo laureati sempre avevamo e poi quella penna diventava la nostra non era comprata era una penna che magari si aveva in casa che si usava in momenti determinati della vita e che quindi automaticamente poi ti accompagnava per esempio la penna buona di mia mamma era la Montblanc con cui ha firmato per il matrimonio ed è stata sempre la sua penna adesso ce la dovrebbe avere mia sorella questa penna gliel'ha data mia sorella che è la figlia grande io ho la penna la mia penna personale è anche la mia una Montblanc classica però la mia ho anche la stilografica perché era quella di mio padre e me rimassa ma la mia è una Montblanc a sfera perché io per scrivere paradossalmente non uso le stilografiche e quindi quando mi sono laureata mia madre per firmare la prima laurea mi ha dato una Montblanc e quella è rimasta la mia con la stessa ho firmato la mia seconda laurea con la stessa ho firmato il mio matrimonio l'ha firmato anche Gabriele con la stessa probabilmente firmerò anche il TFA appena lo finisco è quella penna che segna i momenti importanti che poi lascerò un domani a Enzo quindi sono degli oggetti questa era la penna da tutti i giorni quella anche un po' da casa poi rifacciamoci a un'epoca in cui gli anni 80 70 le cose erano in un certo modo fatte non c'era la cosa da strapazzo c'era la cosa da strapazzo però se mio padre usciva non si portava la penna Bic ma si portava la penna buona poteva essere Parker Paper Met quello che poteva essere adesso dico Marche a caso lui amava le Mont Blanc e amava anche le Cartier però la Cartier c'è la mia nipote quella la sua quella di mio papà e quindi a me e sono rimaste un paio di Mont Blanc questa è una questa è molto particolare ed è diventata la penna di Gabriele però Gabriele un po' per gentilezza un po' perché è un tipo tradizionalista la lascia sempre qua e la prende solo quando deve uscire tipo se ha da firmare un contratto se ha da fare un atto qualcosa lui la prende se la mette nella giacca e se la porta se no poi quando torna anche per non perderla la poggia sempre nel portapenne del mio papà e lei sta qua sempre accanto a noi e vi ho fatto vedere anche il portapenne vintage 40 anni di portapenne ultima cosa ma non per importanza il mio tessoro che io tengo qua è sempre l'ora dei pavesini questo è più recente del suo contenuto vi faccio vedere per le tipe anni 80 come me sarà un ritorno questo è veramente il sorriso per noi bambini io non ne ho tanti perché mia mamma non mi comprava tante brioscine ne ho avute molte di più di queste ma non so dove sono andate a finire forse insino da piccolo me le ha decimate tutte ma le superstiti sono queste gommina del fiattino del coccio del mulino bianco il coccio del mulino bianco che io tenevo rigorosamente così nella casa di Barbie in cucina poi è un caso che mi sia rimasta questa la tavolozza queste sono tutte gommine del mulino bianco ovviamente il walkman il mulino anche questa è una gommina questa si stacca ed è una gommina e l'avveneristico pc del mulino bianco questo è più recente questa deve essere di Gabriele perché ai miei tempi il pc non c'era la cassetta no forse c'era forse c'era i sacchettini cosa sono crostatine tegolini e crostatine la pianolina la cassettina della posta e poi la ruota del mulino tutte gommine e poi quella qui voglio bene di più di questa ne avevo tante credo che non lo so forse le ho regalate a qualche bimba crescendo di queste ne avevo tante avevo tutte le merendine mi è rimasta solo la crostatina al cioccolato e ricordo che io passavo interi pomeriggi a smontarle tutte così e a rimettere poi la farcitura al posto giusto ma perché allora come è messa qua e ci giocavo ore ed ore questa le conservo perché sono il momento in cui non con queste io mi sono innamorata dell'arte con la confezione grande di queste in cui mi sono appassionata al mondo dell'arte sono tutte cose che nella vita mi sono sempre ritornate d'innanzi mi hanno sempre fatto compagnia e di cui mi piace circondarmi anche adesso che sono grande all'interno del mio studio io le guardo e sorrido come un ebete voi avete dei cimeli d'arte del passato mi raccomando innanzitutto fatemi sapere qual è la cosa che vi è piaciuta di più quel ricordo che vi ha suscitato più interesse fatemi sapere se volete vedere la mia collezione di libri antichi e niente grazie per essere stati con me in questo pomeriggio di ripresa del canale con un po' questo tono nostalgico ma anche rilassato tra amici io con voi parlo sempre molto poco perché faccio sempre video pratici vi dico cosa fare fate questo fate questo fate questo ma non scambio mai delle vere proprie chiacchiere con voi come si fa con gli amici e siccome vi sento amici ho voluto fare questo video piuttosto che lasciare il canale sguarnito sono sicura che a qualcuno di voi piacerà magari non a tutti ma a qualcuno di voi sono sicura di sì io vi ringrazio perché in questo periodo non so se è una casualità ma stanno arrivando tantissime richieste tantissime richieste di partecipazione ai corsi di arte per te ne approfitto per dire che in questo momento è inutile iscriversi ai corsi di arte per te perché stanno andando addirittura d'arrivo perché a giugno finiamo pazientate ad agosto vi rifarò il video in cui vi spiegherò le modalità di iscrizione ai nuovi corsi di arte per te che a settembre verranno avviati nel frattempo però mi piacerebbe se siete arrivati a questo punto vuol dire che proprio mi volete bene mi piacerebbe sapere da voi una cosa mi piacerebbe fare un corso estivo proprio di creatività estiva quindi che non sia un corso meramente di disegno piuttosto che di pittura ma anche ci potrà essere qualche appuntamento sulla pittura più snella più estiva più veloce per arredare le case a mare qualche piccolo pezzo di oggettistica estiva dei lavoretti creativi per l'estate dei tipi di quadretti differenti delle modalità di riciclo estive che possono diventare dei compendi carini per le vostre case di vacanza o per agghindare ad estate i vostri terrazzi e i vostri angolini di casa come se fosse un pezzo di arte per te dedicato all'estate chiuso lì cristallizzato per gli iscritti al corso vi piacerebbe fare un corso di questo tipo di creatività estiva con me fatemelo sapere qua sotto perché anche lasciandomi dei pollici in su insomma ditemelo o mandatemi un messaggio perché in questo caso io potrei pensare di attivare un corso dalla seconda metà di giugno per tutto luglio e per una piccola e per una piccola parte di agosto per stare insieme poi vedremo anche forse per tutto agosto dipende da voi per stare insieme anche in estate in maniera creativa magari che ne so come me io non penso quest'estate potrò andare in vacanza perché devo lavorare rimanete a casa volete fare qualcosa volete fare qualcosa con i vostri ragazzi pensateci che io mi attivo però fatemelo sapere per tempo perché così io possa stirare un programma un'idea più chiara ed essere pronta quando vi occorrerà fatemelo sapere se volete un corso estivo di arte per te arte per te in colonia diciamo così rimanendo sul vintage la colonia di arte per te ecco se volete la chiamerò così se la faccio se volete che io attivi la colonia di arte per te fatemelo sapere e ci divertiremo insieme anche quest'estate animerò con grande creatività le vostre giornate estive bene io vi ringrazio per essere stati con me anche oggi vi mando un grande bacio e noi ci vediamo sempre qua la prossima volta vi assicuro con un video creativo fantastico sto sperimentando e sta venendo fuori una cosa bellissima vedrete vi aspetto tutti lasciatemi tra i commenti tutte le risposte ciao vi voglio bene ciao